Si deve aspettare che il disegno di legge di bilancio superi l'esame delle camere perché modifiche sono sempre possibili, ma gli incentivi fiscali per la casa che il documento contiene, nuovi o prorogati, sono comunque degni di nota. La principale novità riguarda aiuole e giardini. Avrà diritto ad un bonus fiscale pari al 35% delle spese sostenute e fino a 5.000 euro spesi, chi crea e recupera aree verdi, private e condominali. Ma rimane anche per il 2018 il credito di imposta per la riqualificazione energetica degli edifici, pari al 65% delle spese per gli isolamenti termici e i pannelli solari e al 50% per la sostituzione di infissi e caldaie. È stata confermata la detrazione pari al 50% e fino a 96.000 euro per le ristrutturazioni semplici. La somma sarà recuperata in 10 anni e resta, ma viene esteso per la prima volta anche alle case popolari, il sisma bonus, l'incentivo cioè per migliorare la sicurezza antisismica degli edifici. Un punto interrogativo riguarda invece il bonus mobili. Non è ancora certa, ma possibile, la proroga della detrazione pari al 50% e fino a 10.000 euro di spesa per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Gli incentivi fiscali dalla loro introduzione nel 1998 sono stati usati dal 62% delle famiglie italiane per 16 milioni di interventi attivando investimenti pari a 264 miliardi di euro e non in nero perché per ottenere gli incentivi è necessario pagare tutti i lavori in chiaro e in modo trasparente.